Ciao a tutti, come il mio primo video vi volevo far vedere i miei libri di cavalli siccome ne ho solo 4, sono i miei preferiti tutti il primo è il cavallo cura e mantenimento che ti spiega come si cura il cavallo e il mantenimento come avete visto nel titolo poi c'è i cavalli straordinari che di Pippa fanno che questi qua cavalli straordinari ha diverse storie un cavallo invincibile, un puledrino nella savana, un cavallo selvaggio poi sempre i Pippa fanno, un cavallo per amico poi un cavallino troppo solo ciao a tutti, questo è il mio primo video poi non fateci caso ai due cavalli che ho se lei ce ne sono due, questo qua si chiama King e questo qua Diablo non c'ho solo questi due che ce l'ho da mia nonna e gli altri quindi ciao a tutti, a presto ciao